Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in questo momento a decollatura nella casa di Giovanni Petronio, autore del libro I ragazzi della fiumerella, un disastro ferroviario a colori. Perché? Perché il 19 di ottobre a Carpanzano ci sarà la presentazione del libro ed ovviamente noi abbiamo voluto incontrarlo questa volta non soltanto per parlare del libro ma anche per parlare di alcuni aspetti che sono emersi durante le presentazioni che comunque rappresentano la storia di Giovanni in quanto ricercatore e in quanto promotore della storia dei luoghi. Quindi io innanzitutto saluto Giovanni e lo ringrazio per quest'altra intervista che ci vedrà sicuramente vedere aspetti nuovi dei ragazzi della fiumerella. Giovanni buon pomeriggio, di cosa parleremo all'interno di questa presentazione del tuo libro? Allora innanzitutto benvenuto Riccardo, finalmente ho questo grande onore di ospitarti a casa mia. Un saluto cordiale a tutti gli amici che avranno modo poi di vederci. Sì, io ti dico la verità sono molto emozionato a presentare il mio libro nel bellissimo Borgo di Carpanzano che è vero, sì, è un borgo di poche centinaia di anime ma che in realtà trasuda di storia, una storia davvero straordinaria, una storia importante. E quindi appunto il 19 di ottobre saremo lì e tu ovviamente anche in questo caso sarai al mio fianco. Io ti ringrazio pubblicamente ancora una volta per questa cosa così importante, che cioè la tua presenza. Parleremo ovviamente della... continueremo a portare avanti questo viaggio, un viaggio di memorie, di memorie di quello che il 23 dicembre 1961, lungo la linea scartamento ridotto delle Calabro Lucane accadde. Che cosa è che accadde? Un treno si sganciò dal suo rimorchio, cadde da 50 metri di altezza lungo appunto il viadotto della Fiumarella e si schiantò sul greto del torrente. I morti furono 71, 31, 31 della mia comunità di decollatura. Tu calcola, guarda Riccardo, che la media d'età delle vittime oscilla a 27 anni e se decidiamo di andare nel caso specifico, cioè a decollatura, la media d'età si abbassa ulteriormente a 16 anni. Quindi stiamo parlando di un dramma di un'entità terrificante, è stato infatti classificato come il più grande disastro ferroviario italiano a livello proprio di deragliamento meccanico. E che cose che faremo il 19? Oltre appunto ad affrontare la questione del libro, quindi a fare una riflessione, che non farò da solo, ripeto, tu sarai al mio fianco, ci saranno altre persone come il mio caro amico Andrea Flocco che ha scritto un monologo sull'etica della memoria intenso, profondo, straordinario. Ci sarà anche il presidente della provincia Iacucci, quindi il presidente appunto della provincia di Cosenza, che darà il valore istituzionale all'evento. Ripeto, il 19, anzi ti dico, parleremo anche di questa ferrovia, delle criticità che la Cosenza-Gadanzaro ha da alcuni anni. E proprio nel territorio di Carpanzano, vede al chilometro 33 per l'esattezza, vi è stata prima una frana, poi uno smottamento che impediscono insieme all'altra frana, che è al chilometro 43 a Scigliano, il normale esercizio di questa ferrovia. Quindi è dal 2011 che il tratto ferroviario che va da Marzi, praticamente, a Soveria Mannelli, è temporaneamente sospeso. Ed è sostituito, ne parleremo anche il 19, da alcuni mezzi su gomma che in un tempo biblico da Soveria Mannelli ti portano a Cosenza. Tempo biblico, perché io sto parlando che tra andata e ritorno da Soveria Mannelli, con i mezzi sostitutivi, si impiegano più o meno 6 ore. Quindi davvero un tempo record. E quindi sono anni che ho provato, che provo ad impegnarmi perché se ne parli di questa ferrovia, perché se ne discuta e perché appunto si prendono i provvedimenti necessari per la sua riapertura. Certo. Poi tra l'altro c'è da dire che la ferrovia non è soltanto un mezzo di collegamento tra un paese e un altro paese, ma è anche un mezzo di cultura. Quindi tu, nella tua attività di ricerca e di documentazione dei luoghi, stai cercando anche di riportare in auge quello che sono le eccellenze del territorio. Nel tuo libro, i ragazzi della Fiumarella, hai ben specificato che ognuno di questi ragazzi tragicamente scomparsi avevano una loro prerogativa, chi magari andava per studiare e sarebbe diventato magari un dirigente, un politico, addirittura c'erano dei calciatori, c'era chi andava semplicemente a vendere le primizie del territorio. Quindi il treno, in quanto mezzo di comunicazione e di cultura, viene ad essere visto come un qualcosa che lega e unisce. Venendo a mancare questo collegamento, muore il luogo. Quindi io penso anche a Carpanzano, che dicevi tu, poche centinaia di anime, ma perché? Perché si spopola, non c'è un collegamento, quindi viene a mancare la cultura. Tu hai portato attenzione in queste tue presentazioni non soltanto sul disastro, che è importantissimo da ricordare, la memoria, ma anche sulle carenze strutturali che gravano sulla rete ferroviaria. Io ricordo sui social, in questo periodo, di vederti spessissimo con dei tuoi micro video pubblicati, dove hai visto proprio con i tuoi occhi quello che è la condizione della rete ferroviaria calabrese. Ed è importante portarla all'attenzione dei politici, dei privati, che magari dovrebbero interessarsene, in quanto ogni cittadino dovrebbe avere come minimo la possibilità di spostarsi da un punto all'altro per vivere la propria vita. Esatto, perché guarda, io credo che il trasporto ferroviario sia un diritto, non sia qualcosa di straordinario, ma sia qualcosa di ordinario, qualcosa che deve necessariamente appartenere ad una quotidianità. Quindi non è un regalo che qualcuno dell'altro ci fa, ma è un dovere morale sapere di avere una ferrovia, sapere di potersi spostare attraverso la ferrovia. Tu ricordavi come effettivamente in questi ultimi tempi un po' di più mari rispetto a qualche altro mese fa. Mi sono impegnato a portare, a riportare l'attenzione su alcune ferrovie come le Taurenzi, che sono relative alla Piana di Gioia Tauro, sospese, anche lì, temporaneamente sospese dal 2011. E anche in quel caso svolgevano un ruolo centrale proprio di collante, perché vedete, la ferrovia ha rappresentato proprio questo. Non solo ha trasportato persone, ma ha trasportato cultura, ha trasportato società. Attorno alla ferrovia hanno orbitato tante persone, si sono costruite delle cose, non si sono messe da parte, si sono portate avanti, si è portato avanti un commercio, c'è stata l'opportunità per tante persone, come appunto il caso di decollatura, di tante persone che grazie al treno hanno avuto la possibilità di studiare, di andare nelle scuole, nelle scuole superiori e quindi poter crescere come persone. Certo. Io a questo punto vorrei lasciare ai nostri amici web ascoltatori la curiosità, non solo di acquistare il libro, ma anche di vedere con i propri occhi la presentazione del libro che avverrà il 19 ottobre appunto a Carpanzano. Ma lancio un'ulteriore sfida, chiamiamola così. A me piacerebbe che ogni comune dove passa appunto una stazione o un treno invitasse Giovanni, giusto per vedere le condizioni anche della propria stazione e perché no fare un discorso con l'amministrazione comunale su quello che è la visibilità sul territorio di quello che può essere appunto uno snodo ferroviario importante. Pensiamo anche alla Mezzia. Cioè la Mezzia è una città molto importante e a me piacerebbe vedere la presentazione del tuo libro Giovanni alla Mezzia dove c'è la stazione di Sant'Eufemia. Mi piacerebbe molto piacere. Tra l'altro voglio ricordarti, scusami se ti interrompo, che la Mezzia Terme non solo all'aeroporto più importante della Calabria, ma alla stazione ferroviaria più importante della Calabria. Quindi allora una riflessione in più dovremmo farla a proposito. Io ho sempre immaginato un trasporto gomma, un trasporto che possa collegarsi benissimo, il ferro possa collegarsi alla gomma, la gomma possa collegarsi all'aereo e quindi ci deve essere chiaramente un impegno che in questi ultimi anni sicuramente c'è stato un po' di più rispetto agli anni passati. Vorrei vedere un impegno costante, più forte per queste comunità perché noi dobbiamo davvero necessariamente riaccenderle le aree interne, non possiamo spegnerle come sta invece accadendo in questi ultimi anni, paradossalmente. Quindi un'area interna che si accenderà sicuramente di cultura il 19 di ottobre, venerdì di questa settimana, sarà proprio Carpanzano che ospiterà la presentazione del libro I ragazzi della Fumarella, un disastro ferroviere a color di Giovanni Petronio, edito da Link Edizioni, diciamolo. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Decollatura.